buongiorno a tutti e bentrovati a questa nuova puntata della rubrica domanda risponde oggi parleremo delle disposizioni su green pass a scuola e le quarantene delle classi veniamo immediatamente alla prima domanda con le prossime nuove regole sulla quarantena degli alunni delle classi in cui c'è un caso positivo al covi di 19 quali saranno le regole le procedure da seguire allora in seguito alla segnalazione di un caso positivo in ambito scolastico dovrebbero diciamo essere queste le nuove regole che ancora comunque non sono state attuate ed è solo ancora in fase di proposta il referente scolastico covi 19 o il dirigente scolastico della scuola individua i possibili contatti scolastici del caso positivo e comunica alla famiglia le disposizioni da intraprendere contemporaneamente la scuola segnala al dipartimento di prevenzione i contatti scolastici individuati e le istruzioni impartite alle famiglie i soggetti convolti dovranno effettuare la sorveglianza col testing e potranno fare rientro a scuola solo dopo esito positivo certificato quindi si supererebbe l'idea che in un caso positivo dentro una classe vada in quarantena tutta la classe si va a circoscrivere il problema però ripeto il solo per adesso una proposta che sarà diciamo molto probabilmente applicata nei prossimi tempi seconda domanda l'accesso regolare a scuola di un docente tramite controllo del green pass può determinare nel corso della giornata l'allontanamento dal luogo di lavoro per la scadenza della certificazione durante l'orario di servizio beh il controllo della valità del green pass sottolinea il ministero in una sua fac avviene quotidianamente prima dell'accesso del personale interessato nella sede ove presta servizio nel caso in cui al momento dell'accesso in sede la certificazione risulti valida il dipendente potrà accedere regolarmente svolgere la propria attività fino al termine la giornata lavorativa così si andrebbe a disinnescare il problema che durante il servizio il docente o il personaleata venga allontanato dalla sede lavorativa terza e ultima domanda gli studenti e i docenti che si recono nelle varie strutture aziendali per svolgere i percorsi per le competenze trasversali all'orientamento il pco tanto per intenderci dovranno essere muniti di green pass gli studenti che effettuano a qualsiasi titolo un'attività lavorativa sono equiparati ai fini dello svolgimento della stessa agli altri lavoratori in proposito l'articolo 9 septies del decreto legge 22 aprile 2021 il numero 52 che disciplina l'obbligo del possesso della certificazione verde per chi svolge un'attività lavorativa nel settore privato prevede espressamente al comma 2 che tale obbligo si applica a tutti i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato questa è la norma è anche vero che ci sono proposte politiche di abolire il pass per gli studenti che si recono in queste aziende però al momento questo è vi ringrazio per l'attenzione spero che queste domande siano state utili al pubblico che ha seguito questo video e vi saluto alla prossima settimana arrivederci a tutti grazie a tutti